Non c'è nulla di così intimo e profondo come la lettura insieme ai nostri bambini, davvero. Leggere insieme una storia, guardare le illustrazioni, possono diventare occasioni preziose ed importanti per scoprire le emozioni dei nostri figli, per nutrire le relazioni, ma soprattutto per aiutare i nostri figli ad affrontare le sfide del quotidiano, come, faccio un esempio semplicissimo, magari chiedendo al nostro bambino ma se fossi stato tu il protagonista, come ti saresti comportato? Oppure semplicemente, hai visto questo bambino? Quante volte veniva preso in giro? A te, amore mio, non è mai capitato? Due domande semplici, due domande banali, ma queste domande arrivano dritte al cuore del nostro bambino. Possiamo anche inventarle le storie, dobbiamo riempire la nostra vita di narrazione. Le storie degli altri diventano occasioni preziose per apprendere qualsiasi storia, la storia di un compagno, di un amico, di un vicino, della nonna, magari anche la nostra storia di quando eravamo piccolini, no? Quel momento lì che tu racconti, tu lo sai, amore, che quando era piccola la mamma la prendevano in giro? Davvero? E tu cosa facevi? Ecco, in quel momento lì i nostri bambini sgranano gli occhi e tutto diventa apprendimento per nostro figlio, ma anche per noi. Ecco, in quel momento lì i nostri bambini sgranano gli occhi e tutto diventano, ma anche per noi.